Giulia, noi siamo non una di meno e abbiamo deciso di rispondere tutte, per te e per tutte le altre. L'altra cosa che vorremmo dire oggi in piazza è che avremmo voluto un po' più di voci femminili. Non prendetevela uomini, ma siamo sempre noi a spiegarvi come non dovete toccarci. E poi parlate voi! Basta, la voce è nostra, la voce è di Giulia! E allora facciamolo insieme, non dobbiamo essere protette, dobbiamo avere voce, essere protagoniste e smetterla di spiegarvi come non farci del male. Partiamo dalle scuole, educatevi, educatevi e parlatevi tra di voi. Siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce! Siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce! Scusaci Giulia, anche per la rabbia che esprimiamo nelle piazze, Scusaci Giulia, anche per la rabbia che esprimiamo nelle piazze,